Massimo Bitonci, Ricoletta ha scelto i nomi per la convenzione delle riforme, come commenta? Che è stato un errore scegliere questo tipo di percorso sganciando un gruppo, diciamo chiamiamolo, di saggi, di costituzionalisti, di professori, sganciato poi da quello che sarà il gruppo formato dai 40 parlamentari e quindi Camere e Senato che avranno la funzione poi di redigere il testo che andrà poi in aula. È un percorso sì costituzionale, avremmo periferito un quanto poi Letta aveva dichiarato durante il discorso della fiducia, cioè una vera convenzione formata sia da parlamentari che da altre personalità e che soprattutto proponesse un testo redigente, cioè un testo chiuso, un testo definitivo che non potesse essere emendato poi dal Parlamento. Questa poteva essere una soluzione per arrivare a compimento delle riforme costituzionali. Troviamo invece questa scelta, un percorso tortuoso, il testo dovrà essere visto dalla Commissione dei 40, questi 35 faranno in pratica da consulenti della Commissione, poi quello che uscirà dalla Commissione andrà in aula, potrà essere emendato e sappiamo che l'aula può essere un po' anche le forche caudine di questo provvedimento. Faccio un esempio, se pensiamo all'abolizione e alla cancellazione del bicarimeralismo perfetto, cioè se andiamo verso un sistema monocamerale dove scompare il Senato, la Lega voterà a favore di questo provvedimento, ma gli altri senatori voteranno a favore di un provvedimento che cancella il Senato così com'è e lo fa diventare la Camera delle Autonomie e delle Regioni, questo penso che sarà più difficile. Quindi non penso che il percorso sarà un percorso facile, noi comunque lavoreremo perché si possa arrivare comunque a una modifica costituzionale, a una riforma che tutti quanti noi aspettiamo da tempo. Poi avete interpellato il Governo anche sull'IVA, che cosa avete chiesto? Il tema dell'IVA è un tema molto delicato, tra 25 giorni avremo l'aumento ulteriore di un punto percentuale, oltre all'aumento che c'è stato lo scorso anno. C'è stata una diminuzione molto importante dei consumi già nel primo trimestre, ma se consideriamo l'anno scorso la diminuzione dei consumi alimentari è stata del 10%, quindi siamo in un periodo di stagnazione. Siamo convinti che l'aumento di un punto percentuale non porterà ad un aumento delle entrate fiscali, anzi, ma una diminuzione, quindi non vediamo perché il Governo debba continuare su questa linea. Noi lo continueremo a dire, sarà un conto alla rovescia. Ogni giorno, per i prossimi 25 giorni, faremo capire al Governo che è un grave errore. Speriamo che ci sia un provvedimento all'interno dei provvedimenti che sono adesso Camera Senato, che ci sia con un emendamento, magari con pari a favore del Governo, la cancellazione di questo punto percentuale che sarebbe a favore delle famiglie e delle imprese.